Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Un campo di alta pressione tenta di espandersi sul centro Europa, lambendo anche il nord Italia e favorendo in talizzone cieli sereni e temperature emiti. Anche il centro-sud sarà interessato da una stabilità diffusa ma con infiltrazioni fredde dai Balcani che faranno calare le temperature specie lungo il lato adriatico. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 10 marzo. Cieli puliti al primo mattino su buona parte delle regioni. Qualche nube in più potrà affacciarsi durante la giornata tra Foggiano, Murge e Lucania. Durante la sera possibilità di brevi rovesci provenienti da nord-est che potrebbero interessare le coste della Bat, Barese e il primo entroterra pugliese ma risulteranno in veloce esaurimento. Temperature massime in leggero aumento, minime stazionarie e media con il periodo. Venti ancora sostenuti di maestrale, specie sul Salento, mari, molto mosso il basso adriatico, poco mosso lo Ionio. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.